Blogosfere Un veterinario amante della meccanica che inventa un apparecchio per dare benessere alla cucina. Il racconto è molto interessante in quanto mi è stato riferito anche di prima mano. Il racconto è del primo operaio di elica che è stato l'esecutore materiale di questo aspiratore. È una lamiera piegata con un elettroventilatore da posizionare all'interno di una valigetta 24 ore. Questo era il sogno dell'imprenditore poter trasportare all'estero a una grande multinazionale questa invenzione per dare il benessere in cucina. E da lì nasce la cappa sottopensile. Da quel momento in poi ne sono stati prodotti milioni di esemplari. Come si sta evolvendo il mondo della cucina ad oggi? Perché poi nel corso degli anni ha subito diverse evoluzioni. Diciamo che elica è stata l'artefice anche della demolizione del muro del cucinino in quanto grazie all'aspirazione dei fumi e vapori della cottura si è permesso di poter aprire gli spazi tra cucina e soggiorno. Per un benessere del vivere, per un godimento di spazi di libertà. In questa evoluzione elica ha trasformato un semplice elettrodomestico da incasso in un apparecchio che diventa poi estetico e diventa un oggetto più che un equipaggiamento tecnico. L'estetica si è evoluta in tutte le sue forme, in tutte le sue tecnologie. Ora siamo primi nel mondo proprio per caratteristiche di design, innovazione e tecnologia. Siete molto attivi su internet, con il sito ovviamente, ma anche con il blog di elica. Come vivete come azienda la comunicazione online e il rapporto con la rete, oltre ai media tradizionali? Ultimamente abbiamo sviluppato un nuovo sito che è online da meno di un anno, che ha avuto un grande successo in quanto abbiamo sviluppato poi delle informazioni, dei dati utili e molto interessanti rispetto alla scelta di una cappa. Inoltre abbiamo introdotto la possibilità di interloquire con l'azienda attraverso un blog che ogni mese pubblichiamo in quattro tematiche diverse e aspettiamo questa relazione, speriamo, importante con il consumer, con gli architetti, con tutto il mondo degli opinion leader. Infatti molto interessante è anche una parte del sito che si chiama Designer Lounge, ce ne parli? Questa è stata una nostra idea proprio perché riusciamo a mettere in evidenza, a pubblicare le realizzazioni degli architetti di cucine e attraverso l'impiego dei nostri prodotti e nello stesso tempo offriamo la possibilità ai consumatori di poter prendere spunto su dei progetti interessanti di cucina e queste due relazioni sono per noi molto determinanti e poi offriamo la possibilità al progettista, al progettista interno, all'interior designer di scegliere dei prodotti che noi definiamo architetturali in quanto sono posizionabili all'interno di un sistema costruttivo che sia o il mobilio come base, il banco cucina o il controsoffitto ma addirittura apparecchi che possono avere il motore in remoto all'esterno del muro, della muratura perimetrale della casa o anche apparecchi normali come questi che possono avere la possibilità di avere un foro di evacuazione posteriormente proprio all'oggetto. Riccardo, grazie e a presto. Grazie a voi.